Atenzione, i seguenti commenti sono stati fatti da un po' di vista allenato. Non ripetere le azioni di questo video, in questo video è presente nel quadro scurito, scossigliato a un pubblico di noi, buona visione. Con la merda, con lo schifo, gli sputi, gli insetti, le bolle, il pus, chi si lava col sapone di Marsiglia? Il sapone di Marsiglia, sapone bellissimo, molto pulito e raffinato, che consiglio a tutti quanti. Guardate, la durezza è la cosa migliore del sapone, ci puoi spaccare pure la pietra, è durissimo, duro, duro, come la coda di un canguro. Fortissimo il sapone di Marsiglia, e dai! Allora, goloso, 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 andiamo subito. Allora, oggi assaggerò il sapone di Marsiglia per vedere che sapore ha. Non ha un buon sapore, il sapone di Marsiglia. Non ha un buon sapore. Mi sono sciacquato la bocca, ma niente, comunque no, non è buono il sapone di Marsiglia. Non ve lo consiglio. Pulisce i denti, pulisce i denti. Sorriso limpido e profumato, il sapone di Marsiglia, Rappallo 2. Oh, santo cielo, santo cielo, santo cielo. Guarda che roba, ha il sapone in bocca, il sapone in bocca. Guarda ragazzi, proprio il sapone in bocca c'ho. Ah, fa schifo, fa schifo proprio, fa schifo proprio, il sapone in bocca. Adesso qui si tocca a sacquare, qua. Porco giuda. Allora, adesso bisogna asciugarsi il sapone. Bisogna asciugarlo, come si asciuga il sapone, e lo asciugare così. Tu, cazzo. Porco giuda. Porco giuda. Tu, tu, porco giuda. Sapone qui. Cazzo. Cazzo, cazzo. Un sapone tra i denti. Tu, ah, ah, ah. Ah, ah. Uh, una sanguisuga. Un verme, un verme, un verme. Guarda un verme. È un verme vero. È un verme vero. Un verme, guarda che roba. C'ho un verme qui. Guarda che roba. Guarda che roba, un verme sul dito. Guarda, è un verme, eh. Si muove. È un verme vero. È un verme vero. Guarda. Un verme qui. Guarda che roba. Devo comunque... Via sto verme. Che cazzo vuole? Che cazzo vuole sto verme? Mi brucia la bocca. Cazzo. Mi brucia la bocca col va del sapone. Oh, le vola va. Tu ti sei mangiato? Il sapone. Guarda che... Il sapone. Fai delle cose veramente abbovinevole, guarda. Una cosa schifosa. Per fare un piacere a quelle... Mi sono mangiato il sapone, fa schifo. Guarda che... La schiuma dentro lo stomaco. E cosa fai? Ti portano all'ospedale. È perché non respiri. È che ne so. È il sapone ti fa la schiuma dentro. Eh, boh. Se ti salvano, ti salvano. Non lo so. E tu se ti salvano. Ora ci metti pure l'acqua. E devo asciugarmelo? Ce l'ho in bocca. Dammi uno... Tutta l'acqua. Una cosa brutta, quello che fai. Tu. Tu. Fa schifo. Perché tu lo sai. Ti ha neviato un attacco con... Non lo sai che fa schiuma il sapone. E se dentro allo stomaco ti fa la schiuma. Cosa fai? Dammi uno strofinaccio. Dammi uno strofinaccio. Ma un fazzoletto che mi devo mettere in bocca. Quello, hai un fazzoletto. Un fazzoletto, cazzo. Tu. 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 Mi sono mangiato il sapore. Esatto. Stai riconoscendo i tuoi amici. Porca griega. Perché non ce le vai a loro da mangiare? Porca griega. Tu hai il mio sapore. Porca griega. Guarda quanto mi ha mangiato. Guarda, guarda. Ah. Ah. Mi costo tre. Ah. Ah. Possibile che non ha studiato che fa la schiuma e con il polmone. Ah. 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 Signora, aiuta. Ah. Più o meno, dai. Aiuta. Ah. 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 No, no. Non è il sapone. Io dottolavo le mani e lui ce l'ha mangiato. Eh, volevo sapere che sapore aveva. Come i bambini piccoli. Ah. 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 sapone o essi che ci mettevo la maionese si assaggia con la lingua ma tu l'hai mandato giù ah no l'ho sputato l'ho sputato l'ho sputato non se lo sente nello stomaco no ho sputato non l'ho deglutito cazzo mamma mia che roba che roba c'è pure il video ecco andava leccata la saponetta esatto andava leccata a norco giuda norco giuda ma un passetto di carta no di carta di carta vuol dire che ne hai mandato tanto giù capito eh sì eh eh sì se l'ora non faceva quell'effetto ecco il fapore in bocca guarda come mi sono ridotto per lavarmi la faccia guarda come mi sono ridotto tu pensa tu pensa solo per fare una scelta guarda come mi sono ridotto guarda come mi sono ridotto guarda come mi sono ridotto dammi un attimo uno stoffa che mi lavo lì c'è 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 un cuoso lì vada comunque qua fa un brolio si fa da si fa per tre vada più bene con il sapone adesso rimane la faccia Grazie a tutti. No, ma l'ho sputato. Vediamo se la mamma ci può venire a prendere. Perché? Sai dove la mamma? Non adesso. Dai, 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 dai. Stasera. Perché è più giugno che c'ha due cassetti di pomodoro da te. Non hai visto? L'hai pure dichiarito. Hai fatto pure il bustino. C'è qui sotto un pezzo di sapore. Stanno... Adesso diventi ultra bianchi, caspita. Ah, puttana. Puttana. Eh, c'ho la lingua col sapone. Guarda che roba, puttana. Che fastidio. Tu. Tu, sento in gola. Sento il sapone in gola. Guarda qui. L'ho mangiato io. L'ho mangiato io. Ma... Ti andavo qua a vedere qui. L'ho mangiato io questo. Beh, ma, dico, ma... Io dico... Ne prendo con l'unghia. Assati. Ma mangiate, capisci? L'ho fatto così. Vado a dire... 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 Poi sai che un pezzettino solo fa tanta schiuma. Eh, meglio. Vuol dire che uno grande non ne fa. E più... Più pezzi ne prende, più schiuma fa. Facciamo una foto per Instagram. Grazie.